tutte le tue emozioni sono create dalle tue cognizioni o pensieri benvenuto sono angelo colle vecchio sono psicologo e psicoterapeuta in questo secondo video della serie penso bene per sentirmi meglio vorrei approfondire l'influenza che il nostro modo di pensare ha sul nostro stato emotivo e di conseguenza sulla nostra vita come abbiamo scoperto nel precedente video il nostro stato emotivo e i nostri comportamenti non sono una diretta conseguenza delle situazioni noi interpretiamo le situazioni in base a delle idee a delle convinzioni queste ultime hanno come conseguenza un'influenza sul nostro stato emotivo sulle nostre relazioni fisiologiche e sui nostri comportamenti chiedo brevemente adesso di prendere un blocco di una penna e scrivere brevemente ma in maniera dettagliata una situazione il quale hai provato a malessere che sia stata ansia rabbia senso di colpa cerca di descrivere la situazione il tuo stato emotivo e l'intensità dell'emozione che hai provato cerca altresì di aggiungere ed individuare quali pensieri ti sono abbellenate nella mente mentre stai vivendo quello stato emotivo però ricordare che cosa dicevi a te stessi in quei momenti quando acquisiamo consapevolezza del nostro modo di pensare e di come esso influenza le nostre emozioni possiamo diventare padroni del nostro destino emotivo i nostri pensieri e nostre convinzioni creano la nostra realtà la nostra verità emotiva se riusciamo a cambiare il nostro modo di pensare possiamo cambiare la nostra realtà alcuni si definiscono come cattive persone altri pensano negativamente riguardo il futuro altri ancora invece pensano di non dover sbagliare mai possiamo cambiare i nostri pensieri e di conseguenza anche le nostre vite se vogliamo migliorare il nostro modo di pensare possiamo evitare tre tappe fondamentali che ci creano un grande malessere la doverizzazione la catastrofizzazione e la necessità proviamo adesso ad analizzare in maniera più approfondita questi tre aspetti devo avere successo gli altri devono amarmi e devono aiutarmi domani deve essere bel tempo quando i nostri pensieri sono caratterizzati dal dovere imponiamo a noi stessi agli altri o alla realtà di essere come noi vogliamo se vogliamo provare a vivere con meno stress possiamo trasformare questi imperativi in forme più flessibili riflettendoci notiamo che non esiste nessuna regola che dice che il nostro desiderio il nostro volere diventi una imposizione le forme più flessibili che possiamo utilizzare sono io vorrei mi piacerebbe potrei non riuscirò a superare l'esame domani sarà una pessima giornata se mi avvicino mi rifiuterà quando i nostri pensieri sono caratterizzati dalle catastrofizzazioni perdiamo il contatto con la realtà immaginiamo in maniera negativa il futuro è fondamentale prendere consapevolezza di quando cadiamo in questa trappola in quanto questa causa spesso ansia e panico quando fa questo tipo di errore chiedi a te stesso cosa mi dà la certezza che andrà così posso vedere il futuro vi è una grande differenza tra necessità e bisogni ho bisogno del suo sostegno bisogna sempre stare attenti agli altri ho bisogno di essere ascoltato se riflettiamo in maniera più approfondita scopriremo che non abbiamo bisogno di tante cose ma molte delle nostre necessità in verità nascondono solo dei desideri riuscendo a vedere nella giusta prospettiva i nostri desideri le necessità perdono di potere e di conseguenza ci creano meno ansia prendi in mano adesso l'esercizio che hai scritto precedentemente cerca di analizzare i pensieri che hai scritto e osserva se si nascondono una delle tre trappole dove aver individuato la trappola che ti crea malessere prova a trasformare il tuo pensiero in una forma più flessibile facendo questo lavoro scoprirai di riuscire a vivere situazioni con meno ansia meno stress meno senso di colpa spero che questo video sia stato interessante e ti abbia aiutato a migliorare il tuo modo di pensare e di conseguenza il tuo stato emotivo mi puoi trovare su facebook su twitter o iscriverti al mio sito ti aspetto e ricorda che l'uomo non è spaventato alle cose ma dall'idea che ha delle cose